1971, la Madonna del Pollino, una festa arcaica straordinaria che si svolge tuttora il 2-3 luglio sul Pollino, tra Calabria e Lucania, all'altezza di 2000 metri, dove c'è un santuario dedicato appunto alla Madonna del Pollino. Io da molto tempo volevo realizzare un documentario sulla Madonna del Pollino, ma non ci ero mai riuscito. Finalmente nel 1971 ci sono riuscito, ma è stato frutto di un patto diabolico. E tra chi c'era il patto diabolico? Tra me, povera vittima, e Annabella Rossi, che era un'antropologa stralipante, la quale mi aveva messo davanti ad un bivio. Tu lo vuoi fare il documentario? Benissimo. Io ho la possibilità di farti entrare, perché io, per i miei meriti, eccetera, riesco a penetrare, a avere il permesso per la realizzazione di un lavoro filmico all'interno della festa, all'interno della stessa chiesa della Madonna del Pollino. Io, che aspettavo da molto tempo l'occasione per poter realizzare questo film, ci pensai un po', poi, ahimè, accettai. Dico, ahimè perché? Perché purtroppo il film che poi ho realizzato con molta passione, però è scisso. Cioè, da una parte c'è il testo filmico, il mio testo filmico, che potrà avere dei difetti, non è che sia tutto perfetto, ma è sicuramente frutto di un uomo di cinema che si avvicina ad un certo fenomeno religioso. E dall'altra c'è il testo, il quale testo segue un andamento un po' retorico, devo dire, senza voler mancare di rispetto alla mia amica defunta, Annabella Rossi, ma comunque, soprattutto, un andamento assolutamente estraneo alla parte filmata, alla parte cinematografica realizzata da me. Cioè, segue un suo discorso, sul quale è inutile insistere. Si conclude con una bella citazione da De Martino, che apprezzo molto, molto bella, ma segue comunque un andamento diverso. E questo documentario, io da molto tempo, mi rappresenta una spina nel mio cuore, perché io avrei voluto rimetterci le mani e poter modificare in qualche modo la colonna sonora, rifacendo il testo, eccetera, rifacendolo a modo mio, molto stringato, molto essenziale, naturalmente, con poche informazioni e basta, ma non ho potuto farlo per ragioni di difficoltà, anche economiche, perché non è un lavoro che costi poco, è un lavoro, prima di tutto, complicato, già tecnicamente, perché bisogna mettersi le mani, in molti sensi, sulla pellicola, sulla pellicola, oltretutto, sul testo, io non ho una colonna a parte, perché se avessi una colonna a parte sonora sarebbe più semplice, ma la colonna sonora non è rimasta nella sua interezza, nella sua autonomia, e quindi c'è il documentario che è quello che è, in cui c'è, naturalmente, parte fotografica e parte sonora. Comunque si potrebbe, mi hanno detto, smembrare in qualche modo e cercare di rimetterci le mani, ma è un'opera lunga, difficoltosa e anche economicamente non piacevole. Allora, lasciando da parte questi tristi argomenti, veniamo a noi, come sono arrivato io sul pullino? Io sono arrivato su un mulo, e cioè a quei tempi non c'era una strada, adesso ci sono strade abbondantissime che conducono al santuario, prima non c'era una strada e la gente, i pellegrini, andavano a piedi, faticando per chilometri, arrivavano morti di stanchezza e di fede al santuario. Adesso non è più così. Bene, a quei tempi, invece, io affittai un muro a San Severino Lucano, che è giù, ai piedi, diciamo, del monte, e mentre il mio operatore, Carlo Alberto Cerchio, e il suo aiuto andavano a piedi perché erano molto più vigorosi, più giovani, più belli di me, io invece, il fonico, che era un po' mollaccione, anche lui, prendemmo il muro, prendemmo due muli. Quindi, io portavo un bagaglio abbastanza pesante sul muro, avevo qualche timore, inutile dirlo, perché poi il muro doveva attraversare dei sentieri misteriosi e impervi per arrivare sul santuario. Però, insomma, affrontai di buon animo questa avventura. Il fonico era un pochino più recalcitrante, perché aveva un pochino di paura, perché aveva visto che il suo muro dava segni di nervosismo. Allora mi chiese se potevamo cambiare il muro. Io presi il muro suo e lui presi il mio. Il mio muro, che prima era buonissimo, appena il fonico salì sopra lo buttò di sotto. E, difatti, il povero fonico fu in qualche modo infortunato, se fece male a una spalla, quindi poter lavorare e non lavorare per la registrazione sonora del film. Seconda cosa, l'arrivo. L'arrivo, insieme con questi pellegrini, che praticamente arrivavano a piedi così faticando, così cantando, cantando con un fervore religioso straordinario, al quale non si poteva non partecipare, però l'arrivo fu terribile, perché la piazza, diciamo, dove, intorno alla chiesa, era tutto sangue. Cioè, la ritualità di allora era una ritualità proprio pagana, cioè del sacrificio. Quindi gli animali venivano uccisi, lì sul posto, pecore, agnelli, galline, somarie addirittura, e tutto veniva poi, ahimè, divorato. E l'idea del sangue già mi impressiona molto, devo dire la verità, anche nei film dell'orrore, io preferisco quelli in bianco e nero, per non vedere il sangue nel suo rossore. Poi non mi piace nemmeno il colore, devo dire la verità. Quindi io partecipai, diciamo, da un punto di vista, come dire, anch'io dovevo nutrirmi, con una pagnotta che avevo preso a San Severino Lucano. Mi chiesero se volevo prendermi un agnellino e avere la soddisfazione di ammazzarlo io stesso. E dissi, ma dico, guardi, preferisco ammazzare me stesso piuttosto che un agnellino, proprio vi siete rivolti alla persona sbagliata. E ho quindi questo rituale del pagano, del sangue, una cosa che mi colpì profondamente, mi atterri, ma nello stesso tempo aveva un significato profondo, fortissimo. Era qualcosa di radicato nella tradizione, nella fede di questa gente. Un'altra cosa che mi colpì fu una specie di misterioso rituale che si svolgeva all'interno di una grotta dove c'erano degli uomini che si aggiravano con gandele raccogliendo pietre. Un rituale che per me rimase un pochino così piuttosto misterioso, ma che aveva una grande è una grande suggestione. Poi l'esplosione di fede all'interno della chiesa. L'esplosione di fede, la donna, addirittura una donna che strisciava con la lingua, un esempio che io non ho mai visto di fede di questo tipo. Una donna che strisciando con la lingua arrivava all'altare. Sull'altare arrivavano anche gli animali, anche gli animali erano praticamente devoti insieme con i fedeli. e altre scene del genere, a parte gli ex-voto che sono una cosa normale, offrivano un po' di tutto, abiti da sposa, un po' di tutto, eccetera, ma c'era una tale intensità religiosa in loro che si rimaneva veramente coinvolti. Devo dire che si arrivava addirittura a delle forme di adorazione, soprattutto, devo dire, da parte dei devoti, maschi, della Madonna, di devozione carnale, proprio carnale. C'era un rapporto quasi mistico-carnale con la statua della Madonna. Altra cosa molto importante, la tarantella. La tarantella è fondamentale. E' una tarantella che veniva dalla Lucania, che veniva dalla Calabria e c'erano, praticamente, ballavano sfrenatamente la tarantella non solo in esterno, ma in interno, davanti alla Madonna, dall'interno della Chiesa. E queste cose erano poco accettate da parte, naturalmente, ecclesiastica. Devo dire che io, una seconda volta, sono tornato e assistivo ad una tarantella di una estrema tensione e suggestione fatta da un gruppo calabrese molto arcaico. Questa tarantella veniva coperta dalla mammeria di Schubert, che il giovane prete in quell'occasione mandava per poter coprire questo qualcosa che veniva considerato come nefasto dal punto di vista cattolico. Ma io, in un certo momento, insomma, ebbi un momento di ribellione. Dico, ma è possibile, bisogna rispettare. Ognuno manifesta la sua fede come vuole e come può e come sa, secondo una propria tradizione. E' una cosa, questo è un argomento che mi appassiona molto. e quindi il documentario si svolge all'insegna un po' così di questi temi fondamentali del pellegrinaggio, del suono delle tarantelle, degli atti di devozione. Devo dire, per quello che riguarda ancora la tarantella, che un anno, non nello stesso anno in cui girai il documentario, sì, dopo qualche tempo ritornai con un'antropologa americana che era assolutamente posseduta addirittura dal suono delle tarantelle, invasata e voleva ballare anche lei e si buttò nella mischia. Altro momento intenso, devo dire, il momento notturno, il momento notturno in cui io mi aggiravo tra gli anfratti delle rocce dove i contadini avevano costruito dei rifugi provvisori tra i fuochi e tra i fuochi e la chiesa e il silenzio o i mormonì delle preghiere in chiesa una notte insonne naturalmente tra il 2 e il 3 luglio che non dimenticherò mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti